Deve sapere difendere come attaccare, io ho sempre giocato così, è un modo di giocare bello per me, perché quando sei in centro campo tocchi tanti palloni e quello che mi piace, sono un giocatore grande con il fisico, però mi piace tanto di toccare la palla. A questo momento il Milano è la squadra la più forte che ho avuto, c'è tanti giocatori fortissimi che sono passati e quando arrivi dentro una squadra che sono i primi in classifica e con Ibrahimovic a 40 anni che fa ancora queste cose, io che sono ancora giovane posso solo seguire, non posso fare di meno, devo fare ancora di più, di più e sempre di più. C'è tanti giocatori che mi piacciono, però al centro copista per essere il più completo possibile e provo a prendere le qualità dei grandi centrocampisti, quello che non lo so, può essere Pirlo, può essere Modric, può essere più grande come Iaiature, quindi mi guardo le partite e provo a migliorarmi su tutte le punte che posso andare davanti. Il 18 non l'ho scelto così perché quando ho iniziato con la prima squadra era il mio primo numero, quindi mi ha portato fortuna, quindi l'ho preso ancora. Per Frank sì è un piacere di venire dentro una squadra e c'è qualcuno che parla con te, che ti metti bene dentro la squadra, che ti fa sentire bene e il contatto è più facile per forza. La prima cosa che ho sentito è il gruppo, sì è vero che dentro questa squadra c'è dei belli giocatori, però ho sentito il gruppo, ho sentito un'emozione forte, un impatto, non lo so come dire, però era forte. Quindi quando sono venuto anche mi sono sentito subito dentro la squadra e mi sono sentito, come l'ho detto, tranquillo. Così si può andare solo davanti con un gruppo così. Quando sono venuto a Milano non è per la bella cosa, la bella città che sono primo in classifica, no. Adesso siamo primi e deve stare così, quindi non posso stare così e dirmi oh siamo primi e la vita è bella, no. Devo fare ancora di più perché quello che sono già qui hanno fatto delle belle cose e io devo fare anche le mie cose, quindi passare per la squadra, però io devo lavorare come l'ho detto e dare una mano.